Una serata molto complicata direi per la Fiorentina, direi che poi si è conclusa quasi nel migliore dei modi, comunque si è conclusa già in modo positivo perché poi portare via un punto da Verona non è facile, non è una cosa da poco, Lazio e Roma, tanto per intendersi, ma anche la Juve, che sono poi le squadre che in classifica circondano di fatto la Fiorentina, ci hanno perso, quindi campo assolutamente non facile, soprattutto in una serata pessima, mi sento di definirla pessima, un po' per tutta la compagine viola, uscirne con un punto è sicuramente un qualcosa di importante, il pareggio italiano non piace però sia oggi che col Sassuolo, per quanto poi soprattutto domenica la Fiorentina abbia creato anche più dell'avversario, oggi in realtà no, però di fatto sono due risultati molto buoni anche perché ho tenuti in rimonta, quindi c'è anche l'aspetto del carattere, della reazione che non sono da sottovalutare e è chiaro che insomma poi allungare la striscia positiva fa comunque morale, anche in vista poi di questa piccola pausa invernale, poi anche dell'avvio del mercato, in tal senso lo stesso italiano poi sostanzialmente ha ufficializzato i coni e domani il ragazzo oggi a seconda della data in cui poi uno vede questo video, il ragazzo sarà a Firenze, e quindi è il primo colpo fatto con grande anticipo e questo è veramente una novità per la Fiorentina di Commisso che ci aveva sempre abituato ad agire con calma negli ultimi giorni, ha conferma anche che poi se uno le cose le fa veramente con i tempi giusti e programmando può farle assolutamente a inizio della sessione e non necessariamente alla fine, questo è un aspetto che turbava un po' secondo me, anche fino all'estate scorsa, è un giocatore ideale, un giocatore che secondo me è perfetto per entrare nel 4-3-3 d'italiano e insomma direi che completa poi le buone notizie della giornata, della serata di Verona, ce ne sono naturalmente anche di meno positive direi su tutto l'impatto e le scelte in fase difensiva a me non convince mai troppo, il turno è esasperato, in questo caso non è stato esasperato a livello di 11 titolari, però la difesa aveva tre quarti di componenti che titolari non lo sono perché c'era il solo Milenkovic al centro, non ho capito molto l'esigenza di rilanciare Igor e Venuti, il gruppo chiaramente l'integrità del gruppo è sacrosanta, però la si ottiene primariamente con i risultati e i risultati li assicurano soprattutto i titolari, quindi se non ci sono problemi di salute come non c'erano né per quarta né per i rosola, magari ci poteva stare un po' di stanchezza, però io avrei chiesto ai titolari di stringere i denti considerando il fatto che ora c'è la sosta e che quindi di spazio per recuperare ce n'è e quindi non c'era stato sostanzialmente il turno infrasettimanale perché in Coppa Italia abbiamo giocato già gli altri e quindi ecco io ho rivisto qualche fantasma di Venezia, peraltro anche geograficamente la Fiorentina era molto vicina alla Laguna, però ecco in questo caso è finita bene e ci portiamo a casa anche il ritorno di Castrovilli che mi era piaciuto un po' a sprazzi, sicuramente aveva impattato bene, poi si era un po' perso anche nel caos che regnava nella Fiorentina di stasera, però ho trovato un guizzo veramente fondamentale, forse ancora più per lui che per la Fiorentina che comunque porta a casa un punto e lui insomma ci auguriamo che porti a casa una dose di fiducia e di autostima come ha detto anche Italiano che gli permettano poi di essere una risorsa vera e propria per la seconda parte di stagione.